Gli ambulanti di Lucera, insieme a quelli di tutta la provincia, si sono riuniti a Foggia il 6 aprile per protestare contro la situazione in cui versano i lavoratori del settore. In quest'anno di pandemia i commercianti hanno subito perdite economiche notevoli a causa delle chiusure dei mercati disposte dal governo e dalle ordinanze regionali e sindacali, senza contare che le tasse da pagare sono rimaste invariate e i ristori si sono rivelati insufficienti. Fateci lavorare il grido dei commercianti ambulanti che chiedono anche ristori più adeguati per sopravvivere. L'appello è rivolto principalmente ai sindaci perché trovino soluzioni per favorire la riapertura dei mercati e al governo perché non lasci soli i lavoratori in questo momento di grave crisi economica. Grazie.